Dietro ad ogni meme c'è sempre una storia. Storie da TikToker. Lei è Arianna Craviotto. Ciao a tutti. Eccola. Ciao, ciao Arianna. Allora, noi qui chiaramente in storia da TikToker raccontiamo quello che è anche la persona, quindi non solo il personaggio dietro il meme. Iniziamo subito da te. Come mai hai tutto questo seguito? Perché la gente ti segue? Allora, io sono una nerd. E ho un pubblico prevalentemente nerd o che è cresciuto come me con Harry Potter, il Signore degli Anelli, la Disney soprattutto. E io non ho mai lasciato quel mondo e ho trovato un sacco di persone che come me non sono mai cresciute del tutto. Quindi toglimi una curiosità, tu sei una doppiatrice oppure una content creator? Tutte e due. Sono nata prima come doppiatrice e poi sui social ho portato la mia passione per il doppiaggio e per tutto ciò che è nerd. E da qualche mese ho anche scritto un libro. Ma hai fatto un corso di doppiaggio? Sì, sì, ho fatto un corso a Torino e mi ero trasferita qui perché io sono Ligure e io super innamorata del teatro ho trovato nel doppiaggio il mio piccolo mondo perché io sono super introversa e quindi al buio della sala posso proprio essere me stessa al 100% senza gli occhi del pubblico puntati addosso. Ma secondo te perché i doppiatori in particolare sui social sono così seguiti? Ti faccio un esempio, Alex Polidori, Maurizio Merluzzo, anche quelli più old come ad esempio Luca Ward. Siete veramente molto apprezzati? Sì, allora io sono seguita soprattutto per le imitazioni, riesco a cambiare voce velocemente mentre i doppiatori che ci hanno fatto sognare con le loro voci sono famosi perché appunto tu non vedi la persona ma vedi Luca Ward, vedi il gladiatore, vedi tutti i personaggi che ha doppiato, Alex, Spider-Man. E quindi tu non chiedi l'autografo al doppiatore ma a Spider-Man. Io penso a Jan Sante, no? Che se parli di Jan Sante pensi a Bradley Cooper. Sì, per esempio, perché poi tanti doppiatori sono associati magari a grandi attori che hanno doppiato. Quindi Arianna, in pratica la tua passione anche per il doppiaggio nasce soprattutto per i cartoni animati perché tu da sempre hai questa voglia di doppiare, dico principessa Disney, ma comunque in generale cartoni animati. Sì, esatto, è sempre stato il mio sogno e ho imparato anche a cantare seguendo le principesse. È difficile. Volevo proprio essere una principesse. Però posso, scusami, adesso visto che ci stai parlando tanto di Disney, tanto di principesse, tanto di imitazioni, Arianna fa le voci, è un po' anche lo slogan che è nato sui tuoi social, adesso le devi fare anche qui in storia da TikToker. Vediamo in un minuto, in un minuto, quante voci riesci ad imitare. Noi ti lanciamo i personaggi e tu limiti, ok? Ah, ok, va bene. Devo pensarla anche, ok? Questa è la challenge che ti lanciamo. Sei pronta? Ti lanciamo. In un minuto, 3, 2, 1, via. Anna Montana. Patrick Comperfellpone che ha detto al vincitore di 3 Academy Award, vincitore dello squalo, True Rastic Park e Team Vening Black 1 e 2, che non posso essere la protagonista di nessun nuovo film insieme con lo scasso di Tom Cruise. Hermione di Harry Potter. È leviosa, non leviosa. La sirenetta di Ariel. Non capisco come un mondo che crea delle cose tanto meravigliose possa essere cattivo. Lilo di Lilo e Stitch. Oggi è il giorno del panino. Ogni giovedì porta il pesce paccio e un panino col burro d'arazzo. Stitch di Lilo e Stitch. Non capisco, vabbè. Non c'è che cosa l'ave. Biancareve. Provate a piscchietà. E sappiamo che sai imitare anche Minni. Caglino. E poi Alice nel Paese delle Meraviglie. Chiudiamo così. Questo è molto difficile. Questo è molto difficile. Dalla tua faccia. Vai, vai, vai. Il tempo sta scadendo. Tre. Signor Coniglio, signor Coniglio, aspetti. Perfetto. Allora, sei stata bravissima. Ora però ti chiediamo un'altra challenge allora a questo punto. Noi siamo amanti delle challenge. Tu vedi Mare fuori? Perfetto. Non possiamo fare la challenge allora. Però voglio dire, almeno sui social, no? Avrai mai sentito, non so, dei personaggi, delle frasi iconiche? Non so, la frase di Rosa Ricci l'avrai mai sentita? C'è una sua frase iconica. Te la ripetiamo noi. La frase iconica dell'attrice Maria Esposito è Io sono Rosa Ricci e tu chi cazzo sei per me? Dice da quella che ha già fatto. Allora, set. L'hai mai sentita? Ma l'ultima parte è arabo. Allora. Vabbè, tu sei di Genova, insomma, lo ricordiamo anche chi ci sta ascoltando. Vivi a Torino, quindi chiaramente hai un po' di difficoltà con il napoletano. Però aspetta, prima di memorizzare questa frase, la challenge che vogliamo proporti è di dire questa frase, appunto, del personaggio di Maria Esposito, come se la dovesse dire un personaggio della Disney. Tipo. Una principessa. Ariel, Biancaneve, Minnie Stitch, Hermione di Harry Potter. Per esempio, Biancaneve. Io sono Rosa Ricci e tu chi cazzo sei per i miei cacciosa fa? Bellissimo! Oppure, più o meno, sì. Ariel. È difficilissima questa challenge, mi hai detto a te chiedere. Io sono Rosa Ricci e tu chi cazzo sei per i miei cacciosa fa? Scusami, ma invece, non so, Stitch come la direbbe? Io sono Rosa Ricci e tu chi cazzo sei per i miei cacciosa fa? Che anche, ovvio, ti fa molto ridere. Aspetta. Vediamo un altro. Ah, Minnie, Minnie. No, aspetta, prima Minnie. Ma sono Rosa Ricci e tu chi cazzo sei per i miei cacciosa fa? Io adesso, quando vedrò Minnie, magari nella casa di tuo bambino, penserò a questa scena. Ultimo, Hermione di Harry Potter. Così cambio proprio la visione quando vado a vedere tutti gli Harry Potter. Rosa Ricci, e tu chi cazzo sei per i cacciosa fa? Arianna, grazie. Forse questa challenge era meglio se non te la chiedevamo. Invece no, è stato bellissimo. È stato veramente bellissimo. È stato veramente bellissimo. Senti, qual è il tuo sogno nel cassetto? Insomma, stiamo parlando tanto di doppiaggio, di cartoni, magari proprio doppiare una principessa. Esatto, il mio sogno sarebbe quello di dare la voce a una principessa a Disney. A proposito di Disney, tu cosa pensi del politicamente corretto e delle polemiche che ci sono state in questi anni sui classici Disney? Se possiamo chiedertelo. Allora, sicuramente i tempi cambiano e le persone iniziano anche a dire la propria sui social e secondo me è giusto che la Disney si distacchi da quello che è stato il passato nel senso che i cartoni così come li abbiamo sempre visti ci sono e così come sono, non vengono intaccati però all'inizio dei cartoni viene scritto questo prodotto può essere offensivo per determinate categorie di persone e i tempi cambiano ed è giusto che sia così. Quindi tu sei assolutamente contraria, voglio dire, nel cambiare magari l'originale, nel tagliare alcune scene? Sì, sì, assolutamente sì nel senso che è il passato, è quello che è stato se non ci sono insulti pesanti e brutti ovviamente è quello che era se si guarda via col vento, io che l'ho visto di recente è veramente un pugno nello stomaco per quanto riguarda la comunità afroamericana e però vedendola dici cavolo una volta era così e abbiamo fatto dei passi avanti, è bello che sia così e guardiamo al passato per non rifare gli stessi errori. Anche perché sai sui social per esempio si scatenano sempre delle polemiche a volte anche inutili leggevamo per esempio alcuni commenti quando volevano censurare alcune scene o anche non far vedere alcuni cartoni animati dove per esempio Biancaneve era la classica donna che rimaneva a casa, si prendeva cura della casa e poi tornavano gli uomini appunto dopo aver lavorato tu quindi comunque un giorno una tua figlia, un tuo figlio non avresti problemi a far vedere Biancaneve perché sai sui social sono arrivati anche i commenti non farò mai vedere Biancaneve a mio figlio oppure Bambi perché sono cartoni che oggi non sono più in linea tu non hai problemi insomma a far vedere No, gli spiegherò solo se dovesse avere una figlia gli spiegherò che quello non è una cosa giusta e carina da fare e che una volta era questa la visione Tornando alla Disney tu sei appassionata solo di cartoni animati oppure anche delle serie tv della Disney tipo quando parlo di serie tv penso a Zack e Cody al Grand Hotel penso a Sleepover Club Ah certo, sì sì assolutamente sì sì io super bimba di Disney Channel Quindi anche High School Musical Sì Soprattutto Camp Rock io ero super fan dei Jonas Brothers ero proprio innamoratissima Sì perché chi dei tre dei Jonas Brothers era protagonista in Camp Rock? Joe? Joe Jonas Sì, Joe Jonas Sì 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 perché poi c'è la scena finale no? Della canzone Del bacio E lui improvvisamente arriva You're the voice Sì sì Che cantano Sì sì Che cantano Con quel taglio di capelli improponibile Eh però quel periodo io ricordo quel taglio di capelli improponibile no? Era fonte di ispirazione per tantissimi ragazzini me compreso E Zac Efron con il ciuffo biondo Perché poi i cartoni o comunque le serie tv ti segnano anche l'adolescenza anche sotto questo punto di vista non solo magari come nel tuo caso che da grande appunto puoi essere la voce di una principessa ma anche sotto l'aspetto del look Tu vivi a Torino giusto? Sì sì Però sei genovese Sì Ma il dialetto genovese che è molto particolare tu lo conosci lo parli visto che comunque sei una doppiatrice no? E comunque i doppiatori Perdono l'accento Perdono l'accento e l'inflessione Un po' anche come per gli speaker Alcune volte mia nonna mi sente parlare parla in dizione e dice Ti capisco però ogni tanto fai anche qualche sporcatura Capita anche a te? Quando sono arrabbiata mi esce proprio il genovese Cos'è che ti fa arrabbiare? Cosa dobbiamo dirti per farti arrabbiare? Però lo so No perché ci sembri un po' una principessa quindi è difficile farti arrabbiare secondo me Come si fa a farti arrabbiare? Sì sì È difficile secondo me Aiuto non mi viene in mente adesso cose Però se dovessi dire una frase in genovese quale diresti anche da arrabbiata? Come ci si arrabbia in genovese? Vediamo allora la parola che si usa sempre è Belin Belin? Sì si usa anche in tutte le Inserisci Belin in una frase vai È Belin puoi dirla in tutti i momenti Belin Sembra portoghese Sembra portoghese Brasiliano Sì Amo quell'origine portoghese Puoi dirlo in tutti i momenti Va bene in tutte le salse Quanto era un rafforzativo Un intercalare A proposito di Belin A proposito di Belin allora a questo punto quante domande sui Belin tuoi ci consenti di fare? Noi ne abbiamo cinque però ne puoi scegliere tu a quante ne vuoi rispondere Da uno a cinque Quante? Sì a quante vuoi rispondere? A tutte Ah attenzione Allora partiamo con sei fidanzata? Prima domanda Sei fidanzata Con chi? Seconda domanda Mi chiamo Simone Ok ok Simone Cosa fare la vita? Vabbè ma adesso non è che dobbiamo entrare nei dettagli del fidanzato Fa il tecnico radiologo e il content creator Ok ok Per non sprecare le domande questa è una domanda extra Diciamo che la seconda No ormai sono due Sono due Sono due Vabbè comunque diciamo la terza va Si guadagna di più come doppiatrice o come content creator? Creator Un'imitazione che ancora stai studiando? Ti sto studiando Perché non me ne viene in mente? Ci sarà però qualcuno Ci sarà una che magari ti viene meno e quindi tu ti eserciti un po' in più O che ancora non l'hai fatto? Perché c'era una voce che mi sono studiata ma ho già fatto No le voci delle Winx Ecco le sto Winx? La mia mano nella tua Sì loro Loro me le sto studiando Che radio ascolti e soprattutto perché Radio Kiss Kiss? Perché è la migliore Eh su mi piace Benissimo Arianna allora grazie ovviamente Grazie per questa chiacchierata Grazie Come direbbe il mio re di Harry Potter Kiss Kiss a te Così per sfizio Kiss Kiss a te Arianna Caraviotto qui in diretta su Radio Kiss Kiss Queen Storia da TikToker Grazie Arianna Ci salutiamo Ciao ciao Alla prossima Ciao ragazzi Grazie mille Ciao 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 Vi ricordiamo che l'intervista come sempre Storia da TikToker Le interviste le trovate sul sito Kiss Kiss.it Le trovate su YouTube Le trovate su Spotify Un po' ovunque Ciao a tutti amici Kiss Kiss da Marco e Raph Ciao a tutti amici Ciao a tutti amici Ciao a tutti amici Ciao a tutti amici